Sabato 22 settembre torna a riunirsi il Consiglio Comunale di Clusone. Diverse interrogazioni presentate dalla lista civica di minoranza per Clusone. Una di queste riguarda un'eventuale area di servizio sulla nuova variante Clusone-Rovetta. Spieghiamo questa vicenda dall'inizio. Sì, la vicenda trova origine quando la provincia decide di dare il via alla costruzione di quello che è la tangenziale Clusone-Rovetta. In prossimità dello svincolo di via Brescia c'era un'area, proprietà insieme a un immobile, proprietà dell'ente Fondazione Papa Giovanni, un ente di diritto pubblico, che cede l'area per il tracciato della strada, ottenendo però degli accordi compensativi per quanto riguarda la rivalutazione del proprio terreno, che comunque è in quel sito. Si pensava che quel terreno fosse quindi riservato al Papa Giovanni per una sua rivalutazione e nella fattispecie per un distributore di carburanti, poi si sono inseriti dei privati e questo tipo di possibilità, se non è sfumata, comunque sta incontrando notevoli difficoltà. È ovvio che di fronte al silenzio dell'amministrazione noi interpelliamo per sapere, perché riteniamo più che legittimo il diritto dell'ente Papa Giovanni, ripeto, ente di diritto pubblico, di vedersi riconosciuto ciò che gli era stato promesso in tempi non sospetti. Presso il Comune di Cusone sono giacenti due domande per l'insediamento di aree di servizio con distributore annesso. Una è appunto quella del Papa Giovanni XXIII e l'altra di una ditta privata. Quella della ditta privata è stata presentata in ordine di tempistica precedentemente a quella Giovanni XXIII, la legge prevede che bisogna esperire prima la domanda presentata in anticipo. Di conseguenza sono in atto le verifiche del caso, a breve ci sarà una conferenza di servizi che andrà a definire se questa procedura sarà approvabile o meno. Teniamo presente che i distributori carburanti nuovi prevedono comunque l'insediamento di un'area GPL o metano che è un servizio che sul territorio manca. Tornando al problema del Papa Giovanni XXIII, secondo me, visto che la nostra amministrazione ogni tanto viene additata come pasticciona, diciamo che il pasticcio in questo caso è stato fatto ai tempi della realizzazione della nuova tangenziale da parte della provincia. Si è parlato di promesse, ma promesse che non sono documentabili per quanto io ne so e per quanto risulta agli atti. Mi ricordo anche che nel vecchio PRG quell'area era compensata con una possibilità edificatoria, poi il vecchio PRG è stato adottato ma non approvato. Nel PGD invece approvato c'è la possibilità di attribuire a quell'area dei valori compensativi nel momento in cui quest'area venisse ceduta. Perciò noi abbiamo valorizzato quel terreno con questa nuova modalità di iscrizione nel registro dei valori compensativi. Attualmente, come dicevo, va chiusa la pratica inerente alla prima richiesta e eventualmente poi, nel caso fosse bocciata, si passerà all'esame della richiesta fatta a Giovanni XXIII. E' ufficiale che comunque tra le due parti c'è in corso una trattativa. Ci sono anche dei valori importanti sul tavolo che il Giovanni XXIII e il suo consiglio nell'interezza si prendano le responsabilità sia andare avanti con questa trattativa, ripeto, importante che può servire all'istituzione per cominciare o programmare degli interventi in recupera.